La comunità Cenacolo accoglie giovani e meno giovani, la forbice si allarga sempre di più. Tristi, delusi, spenti, drogati, alcolizzati, persi direi. È un abbraccio, è una casa che si può definire casa della misericordia. Per me è stato così, quando ho bussato alle porte della Cenacolo ho trovato due braccia che mi hanno accolto. Ero confuso, perso, dopo anni di droga non sapevo dove sbattere la testa. Lì ho ricominciato a respirare, ho ricominciato a vivere, mi si sono riallargati i polmoni. In una parola che penso riassuma bene tutto, io ero morto, sono risorto. Una vita cambiata grazie all'incontro con la comunità Cenacolo, anzi tante vite cambiate nelle comunità sparse in tutta Italia per un incontro, quello con Madre Elvira. Ora la gioia della conversione o di una rinascita diventa l'impegno a salire sul palco e a trasmettere valori umani e cristiani. Lo spettacolo è Seguimi e parla di San Pietro. Seguimi, Seguimi è il nome dell'ultimo lavoro realizzato con i ragazzi della comunità Cenacolo. San Pietro racconta un pezzo di vita di Pietro, San Pietro. Per noi è guarigione salire su un palco, davvero per noi. Non lo facciamo assolutamente per l'applauso, per il biglietto che hanno pagato, perché non si paga, è gratis. Lo facciamo per testimoniare. Come dice San Pietro nel discorso iniziale, noi siamo testimoni. Con questo spettacolo Seguimi, penso proprio di fare ancora una volta più un passo dentro di me, quello di abbracciare, avere quella libertà di essere davanti agli altri, di non vergognarmi più, di essere libero e riscoprire quanto nella mia vita posso fare, quanto alla fine la mia vita è preziosa, anche per gli altri e non solo per me. arriva un messaggio di tutte le cose che faceva Gesù, le cose che veramente ti toccano dentro il cuore. Io tutto pensavo nella mia vita, a meno che sarei arrivato a questo punto, non credente, e arrivare qui e vedere veramente che cos'è la vita di Gesù. Un miracolo per me e per tutti quelli che mi sono accanto. La comunità Cenacolo per me è stata come un ricominciare vita, per me è come una famiglia che so che mi accompagnerà sempre con quello che Madre Vira mi ha insegnato, dare il massimo, superare i miei limiti, di accettarmi per quello che sono e di scoprire anche tutte le cose belle che Dio mi ha messo dentro.